Potere demoniaco della televisione In camera di Sally, ragazza sedicenne, si materializzano dei demoni che saltano fuori da un programma televisivo, mentre lei sta dando una festa. La giovane si tramuta in un mostro il cui sangue, corrodendo il pavimento. Provoca un blackout che terrorizza gli inquilini. I demoni ed esseri umani si scontrano in feroci e allucinanti battaglie fin quando un giovane capisce che l'orrore viene dai video e distrugge tutti quelli in circolazione.